Ciao ragazzi, oggi voglio fare delle pizze fritte, visto che siamo dentro casa non sappiamo che fare, allora impastiamo. Allora ho impastato mezzo chilo di farina, 10 grammi di lievito, un cucchiaino e mezzo di sale e ho fatto l'impasto. Adesso la tiro sulla tavola, la vedo un po', e poi farò delle pagnottelle, non faccio crescere la pasta, faccio crescere direttamente le pagnottelle, lievitate. Una volta lievitate le schiaccio e le faccio crescere e poi vanno fritte, ok? Facciamo, guardate, vi diamo delle botte, se siete nervosi scaricate l'adrenalina, giusto? O se volete apprendere a pizze qualcuno, lo potete fare benissimo in questo modo. Io ho un problema con la connessione, non mi fa pubblicare video, o perché è troppo lunghi, no, non lo so perché. Vabbè, adesso ve ne faccio vedere uno e poi spengo, perché altrimenti è troppo lungo. Vabbè, farò delle palline, non mi va di pesarle, altrimenti le pesiamo, va. Le farò, non lo so quanto, di 100 grammi, vediamo questa quant'è. E poi, 90 grammi, vedi, facciamo, 140 grammi, vengono belle grandi. Che misura, proprio un giazzecco, eh? 140 grammi, ok. Con la farina di semola, mi rilavoro. Io non lo so come fanno a fare gli svelti. Vabbè. Si pirlano. Questo è pirlare. Perché a volte mi dicono, cosa vuol dire pirlare? Come glielo spiego? Schiacciamo un po'. Ecco, così, vedete. E basta. Io continuo. Tanto avete visto il procedimento. Questo adesso, non lo so, un'oretta, per crescere. Oggi non fa freddo. Ok, a dopo. Passata un'ora. Queste sono lievitate. Adesso. Farò le pizzette, partendo dal centro. Vedete che sono morbide. E poi le andrò a friggere. Potrei fare con il mattarello, però... Poi non vengono belle alte. Poi voi le potete farcire pomodoro e rughetta. Qualsiasi modo. Le potete tagliare se vengono alte. Oppure mettete gli ingredienti e poi li piegate così. Sì, ci sono tante cose. Io le vorrei farcire con la mortadella. È l'unica. Almeno per me. Ecco, una è andata. Vedete? Ok, a dopo. Sono state allargate. Vedete, sono tutte uguali. Perché il peso era quello. Adesso le coprirò. E le farò riposare 10 minuti, in quarto d'ora. Così. In modo che si... Le apprendono. Cioè, si rilassano. In modo che così si dice. E poi li andrò a friggere. Vado a friggere. Con una mano. Perché con l'altro il tablet. Cioè, si rilassano, si rilassano. Vedete? Allora, le pizze sono fritte. Sono 5 perché non ho già mangiato. Adesso le andrò a farcire. Le pizze sono tagliate. Vedete dentro come sono. Adesso le farcisco. Ho preso questa, ma è buonissima. Perché per i negozi qui che non si può uscire. Ho fatto spesa. Si questi giorni. Ecco. E che vogliamo mangiare? Che ve lo dico a fare? Ok. Buona giornata a tutti. E mettete mi piace. Fate quello che volete. Bye bye.